Dai Antonio, dai, basta il foglietto, basta il foglietto, vai, dai, basta il foglietto, vai, bruttamento del lavoro minorile. Dai, fai la domestica, vai, lavora, se non ti do i soldi, dai, dopo ti do 2 euro, vai, dai, basta per bene, dappertutto, anche là Antonio, vai là a pulire. Hai fatto? Hai fatto? Ora quanto vuoi, quanto devi darci, 1 euro, 2 euro, che hai pulito da casa. Grazie.